Sindaco Cacioppo, un risultato sofferto ma alla fine è arrivata la vittoria? Sì, devo dire sofferto ma le cose sofferte si apprezzano di più, hanno più valore, hanno più intensità, forse hanno più senso per la comunità, le cose facili non ci appartengono. Sono stati dieci anni importanti, dieci anni di questa storia, una storia che è già diventata futuro, non è il nostro futuro, è il futuro di Sambuca, della nostra storia. C'è stato solo un passaggio di testimone, accanto a me c'è il sindaco Scendeciaccio, insieme a tutta la comunità abbiamo combattuto questa importante sfida e l'abbiamo vinta. Il progetto Sambuca prima di tutto continua? Sì, deve continuare perché è un progetto importante, è un progetto di comunità, è un progetto della comunità, è un progetto dei sambucesi, è un progetto che nessuno poteva permettere di fermare, perché è un progetto democratico e liberale, è un progetto di tutti. Grazie. All'altro candidato a sindaco che si è sicuramente difeso esce a testa alta da questa competizione elettorale, lei oggi cosa si sente di dire? Vabbè, devo dire che è stata comunque una sfida tra pari, una sfida che entrambi proviamo dalla stessa amministrazione e che chiaramente vogliamo all'interno del progetto stesso affinché la comunità cresca e cresca con tutte le forze buone che in questo periodo sono scese in campo. La prima cosa da fare dopo l'insediamento? La prima cosa da fare è incontrare i bambini delle scuole, abbiamo con tutti i consiglieri, i candidati, abbiamo pensato di raggiungere le scuole, non lo facciamo domani perché la scuola è chiusa, lo faremo dopo domani. Le due case di riposo e i bambini, vogliamo dare un segnale che il nostro è un progetto in itiner, che parte dai bambini ma che vuole pensare anche più maturo. Il sindaco uscente si è anche candidato al consiglio comunale pur di sostenere il suo progetto, è ipotizzabile che Leo Ciaccio possa avere anche un incarico di governo nel nuovo esecutivo cittadino? Ma io penso al di là dei risultati che ancora non conosciamo, il sindaco Ciaccio ha avuto il timone in dieci anni dell'amministrazione uscente, penso che sia giusto, penso che abbia tutte le condizioni per farlo, penso che la comunità tutta, io appena eletto sindaco, devo avere per questa sua scelta, che è una scelta importante, una scelta anche pericolosa se vogliamo, politicamente parlando, è giusto, penso che abbia un posto per continuare a raccontare la sua parte, io la mia parte, la giunta ma anche la comunità tutta, fatta anche di consiglieri, quello che diciamo via via andiamo a costruire. L'abbiamo vista piangere, lei ha sentito tantissimo questa elezione? Ma devo dire di sì, più della mia elezione per alcuni versi, perché è stata una campagna attuale brutta, non ce l'aspettavamo questa aggressione, però dobbiamo dire che i fatti hanno avuto ragione sulle falsità, che hanno inondato le case delle famiglie sambucesi e questo mi inorgoglisce, perché vuol dire che questa comunità è una comunità che in questi dieci anni ha maturato con noi, ha messo Sambuca prima di tutto e dobbiamo continuare in questa direzione, con Giuseppe Cacioppo, con chi ci ha messo la faccia in prima fila, in seconda fila, Sambuca continuerà a costruire progetti meravigliosi per questo territorio. Un progetto che la vedrà ancora protagonista, perché lo dicevamo poco fa con il neoeletto sindaco, lei poi ha deciso pure di candidarsi al Consiglio Comunale. Io non so quello che farò, è chiaro che darò una mano, a prescindere dal ruolo che avrò, così come abbiamo fatto tutta la comunità in questi dieci anni, e questo è il minimo che potevamo fare, metterci la faccia a sostegno di un progetto virtuoso, virtuoso, che stava per essere demolito da quattro chiacchiere, da quattro falsità messe ad arte per sconviggere e per portare indietro questo territorio e questa comunità. Sambuca ha dato ragione a Sambuca prima di tutto, a prescindere da ogni ruolo porterà avanti questa comunità. Grazie. Grazie.